Il modo misolidio con la sesta bemona e tonalità di Mi è composta dai seguenti notri, tra il Mi e il Fa diesis, un tono tra il Fa diesis e il Sol diesis, un tono tra il Sol diesis e il La, un semitono tra il La e il Si, un tono tra il Si e il Do, c'è un semitono tra il Do e il Re, un tono tra il Re e il Mi, un tono, in pratica ci sono solo due variazioni nella direzione a salire dei sharp, cioè dei diesis e il Sol e il Fa diesis e il Sol diesis. Grazie a tutti.